Stufo di inviare ogni anno lo stesso biglietto natalizio di auguri, il quotidiano La Nazione, redazione della Versilia in collaborazione con il Comune di Viareggio, ha deciso di dare sfogo alla sua creatività dando vita a qualcosa di personale che è stato presentato oggi nel luogo simbolo della città di Viareggio, la Torre Matilde. Si tratta di fotocartoline che immortalano gli angoli più belli e suggestivi di Viareggio e della Versilia. Sono otto cartoline che fanno parte di una collezione esclusiva grazie alle immagini che ci sono state concesse dal fotografo Carlo Valentini. Un viaggio nei luoghi simboli del territorio, cartoline che possono essere spedite a parenti e amici come si faceva molti anni fa oppure possono essere incorniciate e appese su una parete di casa. In realtà è la voglia di tutelare le tradizioni e di dare ai lettori del giornale un prodotto sempre nuovo, innovativo ma al tempo stesso legato alle nostre radici. Un modo diverso per creare le tue presentazioni natalizie è sorprendere amici, parenti e conoscenti con immagini davvero esclusive. Quando la nazione ci ha proposto questa carrellata di fotografie belle e noi abbiamo detto che la cartolina, riprendiamo in mano anche la cartolina, in un mondo virtuale la cartolina ci resta nelle nostre case, è una bella occasione per far vedere le bellezze del Viareggio e della Versilia e abbiamo sostenuto questa iniziativa, siamo contenti e sono gli auguri anche dell'amministrazione ai lettori della nazione.